Innanzitutto nuovamente benvenuti, buongiorno, questa è la sessione in lingua italiana. Qualche parola sul nostro relatore di oggi. Eugenio Ripepe, ordinario di filosofia del diritto nell'università di Pisa dal 75, a Camerino poi a Pisa, più volte preside della facoltà di giurisprudenza pisana, direttore del dipartimento di diritto pubblico, direttore del centro interdipartimentale di bioetica. L'ultimo libro che mi è passato per le mani da lui scritto è sulla dignità umana e su alcune altre cose. Non so se nel frattempo qualcosa mi è sfuggito, soprattutto un caro amico che ho voluto convitare a questa edizione delle giornate tridentine di retorica e della società italiana di diritto e letteratura con uno scopo recondito. Mentre nella sessione di ieri la finalità era quella di indicare una possibilità di sviluppo molto interessante che si offre alla materia di diritto e letteratura nel campo della visual e multimodal argumentation, ed ecco la ragione dell'invito al professor Kielzen, il fil rouge che avevamo pensato assieme agli altri colleghi del comitato scientifico per la seconda e conclusiva sessione, vorrebbe essere quello di un richiamo dello studio di diritto e letteratura a quell'ambito molto più ampio della letteratura stessa che è l'ambito delle discipline umanistiche. Soprattutto in un momento come questo in cui anche, diciamo così, de legge ferenda, i venti sono quelli di una iper specializzazione e dunque di una tecnicalizzazione della nostra materia. E mi sembrava che nel panorama nazionale, senza nulla togliere a nessuno, ma veramente Eugenio, fosse la persona più autorevole e più indicata per parlarci di questo. Leggo loro solo alcune righe, tratte da un libro non suo ma in cui c'è un suo piccolo ma succoso contributo, il libro non a caso si intitola Diritti fondamentali e letteratura nella formazione forense, curato dall'avvocato David Cerri di Pisa, dove il professor Ripepe scrive, cito, occorre ribadire e rivendicare l'insopprimibile dignità culturale della professione del giurista, pratico o teorico che sia, la sua perdurante appartenenza all'ambito umanistico, al di fuori del quale il sapere giuridico rischia di ridursi a un mero know-how, vale a dire, a una tecnica come a un'altra e così scivolare irrimediabilmente dalla contiguità alle arti del trivio a quella ai mestieri da trivio. Credo che presentazione migliore non poteva essere che questa contenuta nelle tue righe ed ora ti passo la parola con grande curiosità e grazie di essere con noi. Grazie. Prima di tutto la questione della lingua è una sessione di lingua italiana, ma devo dire che anche se fosse stata una sessione come quella di ieri, bilingue, avendo constatato che la stragrande maggioranza è di lingua italiana, mi troverei in imbarazzo una volta tanto nella vita a non essere in maggioranza, sono sempre in minoranza, stavolta la maggioranza in lingua italiana mi avrebbe comunque autorizzato a parlare in italiano. Però prima di cominciare a parlare devo dire tutta la mia gratitudine al mio vecchio amico Maurizio Manzini che ha letto così bene le mie parole che mi sono sembrate migliori di quando io le ho scritte, ma insomma grazie, e poi anche al suo allievo Federico Puppo che si sono presi la responsabilità, sotto la loro personale responsabilità, si dice che vuol dire al loro rischio e pericolo, di proporre, e ringrazio ovviamente anche Carla Faralli e Paola Mittica di aver accettato questa proposta, di proporre me per questa chiacchierata, diciamo così. È la prova migliore che anche le persone migliori appunto si lasciano forviare dai sentimenti, in questo caso dal sentimento di amicizia, la nostra vecchia amicizia, scusate, la nostra antica amicizia, il linguaggio accademico non dice mai vecchia amicizia, dice antica, quindi tu sei un antico amico e non credibile quindi come presentatore di personaggi e questo vale ovviamente anche per Federico con il quale l'amicizia è meno antica ma è anch'essa assai intensa, quindi grazie della fiducia. Voi sapete che normalmente la fiducia si ricambia travendola, dimostrandola infondata, spero di non arrivare a questo. Allora veniamo al sodo perché credo che la mannaia in mano a Maurizio dell'orario sarà terribile. Perché parlare dell'Odissea e dell'indegnamento, ma insomma di questo parlerò, e del libro della Genesi, della Bibbia? All'origine di questa riflessione che vi propongo e vi sottopongo è il combinato disposto, che è un'espressione cara ai giuristi, specie a quelle di complemento o di fresca arrivo al mondo del diritto, il combinato disposto di due elementi confliggenti tra loro, assolutamente incompatibili. Da un lato una convinzione tra la tizia, per la verità con qualche eccezione, ma tuttora corrente che essendo tra la tizia è in realtà a critica, secondo la quale nei poemi omerici e nella stessa parte della Bibbia alla quale farò riferimento, non ci sono elementi sufficienti per costruirvi un'ipotesi di ricostruzione di quella che poteva essere la concezione del diritto e il diritto stesso nella società che vi è rappresentata e ancora meno nella società nella la quale la cultura che arriva a queste grandi produzioni letterarie, considero la Bibbia una produzione letteraria e nulla di più, affondano le radici. L'altro elemento confligente con questo è la sioma brocardo ubi societas ibius, che poco meno che un atto di fede per uno che ha cominciato a studiare diritto e poi ha studiato il diritto malamente, ma insomma tutta la vita, in quella sapienza pisana da dove il brocardo ubi societas ibius, un secolo fa giusto, è stato proposto come manifesto sintesi, grazie, di uno dei tre tipi di pensiero giuridico, alludo ovviamente a Santiromano. Allora non c'è altro modo per vedere come uscire da questa alternativa le due ipotesi non mi pare che siano conciliabili tra loro, che è quella di cercare di fare una lettura rapida, tranquillizzo subito, a volo d'uccello, rapsodica inevitabilmente, date oltretutto le caratteristiche delle opere alle quali facciamo riferimento, un'altra mirata allo scopo di cercare in queste opere, io non dico di cercare dove si parla del diritto, ma dove si parla di diritto, non è la stessa cosa. di diritto si può parlare anche senza avere una concezione consapevole, un concetto di diritto e si può parlare anche indirettamente perché quello che francamente mi interessa, credo che interessa di più a tutti noi, non è la concezione del diritto ma la percezione del diritto in queste grandi opere che sono rivelatrici di culture e che poi sono opere, non dimentichiamolo, tutte e tre queste che non si esauriscono nel momento della composizione, hanno una composizione prolungata nel tempo, sono state adottate anche come finalità diverse, Bibbia lo sappiamo pure, ma anche i poemi omerici sono stati a lungo un testo scolastico di apprendimento, di insegnamento e così via. Insomma sono opere che oggi, un'espressione che uso volutamente per fare sollevare qualche sopracciglio accademico, ma qui non ci sono accademici che sollevano le sopracciglia, sono opere di infotainment, cioè di informazione attraverso anche una sorta di intrattenimento più o meno piacevole. Anticipo subito la conclusione alla quale mi sembrerà di arrivare, che è la seguente, dei due elementi confliggenti non è certo il secondo ad essere messo in discussione a cadere, e semmai il primo. Ma questo a condizione che si cerchi, ripeto, la percezione e non la concezione del diritto. D'altra parte la conclusione è che dal primo libro o canto dell'Iliade al penultimo canto dell'Odissea, quindi per tutti i poemi omerici, diciamo la presenza del diritto, la percezione del diritto, l'influenza di un comune sentire, usiamo questo termine per quanto riguarda il diritto, è presente ed evidente. E per quanto riguarda la Bibbia addirittura una mentalità giuridica finisce col plasmare l'esposizione, l'espressione e il racconto fino a imporsi, a imporre la logica giuridica alla stessa logica teologica, cercheremo di vedere come è stato possibile però che si sia arrivati a dire il contrario, che non ci sono elementi sufficienti per intravedere una concezione ma anche una percezione del diritto. Ma secondo me per due ragioni probabili. La prima è che se si cerca evidentemente un termine che possa coprire la stessa gamma semantica che copre il termine polisemico diritto, un termine altrettanto polisemico non lo si trova né nella Bibbia né nei poemi omerici. Parole come diche o temi sono anch'esse polisemiche ma hanno altra gamma, non coincide la loro gamma semantica con quella del termine diritto o delle parole corrispondenti a diritto nelle lingue moderne. E questo non si può fare, non si può cercare la parola che coincida direttamente col nostro concetto perché i concetti sono oltretutto in evoluzione. Quindi anche se abbandonassimo questo feticismo verbale e cercassimo il concetto o la concezione anche sulla base di altre parole, altre descrizioni, non potremmo pretendere di trovare qualcosa che corrisponda direttamente al nostro modo di concepire il diritto. E a questo punto io rivendicherei, se me lo consentite, quello che potremmo chiamare un diritto al senno di poi, in questa tuttora perdurante età dei diritti, stavo dicendo per ora perdurante età dei diritti, questo diritto andrebbe rivendicato. Cioè il diritto di leggere opere del passato non necessariamente solo per penetrare in quello che hanno di peculiare, di irripetibile, quindi cercare di avvicinarsi quando più possibile a quello che è il loro contesto culturale e così via, anche per un'altra ragione, per riflettere sulla nostra concezione di diritto anche attraverso, o sulla nostra percezione del diritto, anche attraverso queste opere. Quindi una specie di rivendicazione dell'anacronismo di una lettura fatta con i nostri fini e per i nostri fini. Veniamo allora al dunque, facciamo una brevissima lettura rapsodica per cercare di vedere come si può percepire l'emergere proprio di quella dimensione della giuridicità che è in gran parte la nostra. È chiaro che attraverso queste opere possiamo scoprire l'America, scoperta dell'America, ci sono dei comportamenti considerati dovuti che si affiancano ad altri comportamenti considerati necessitati e ad altri ancora considerati del tutto liberi e irrilevanti. Nell'ambito dei comportamenti dovuti abbiamo un convergere, un intrecciarsi, un confondersi di diverse componenti che noi oggi abbiamo chiare nella loro distinzione e separatezza addirittura, ma che in questo mondo e a lungo nel mondo fino all'età moderna sono rimasti intrecciati o sovrapposti l'uno all'altro. Quello che fonda la doverosità sul volere di un'autorità superiore, divina o anche umana, quella che fonda la doverosità di un determinato o più comportamenti sulla loro corrispondenza alla scala di valori o al costume dominante in una società e poi qualche altra cosa che non può ritenersi interamente ricompresa nelle prime due forme. Insomma, un insieme, i comportamenti dovuti di sottoinsiemi. Vediamo questo terzo sottoinsieme, in che senso lo possiamo affermare esistente. Leggiamo l'Iliade. Cos'è la cosa che stupisce, credo, il lettore, o dovrebbe stupire il lettore più che ogni altra. Io partirei da quella che è l'aura dell'Iliade, che non è stata resa dai tanti autori che hanno partecipato, dagli Omero, che fanno l'unico Omero a noi noto, ma è stata resa questa opera, questa aura, nel modo migliore, a mio avviso, da Costantino Scavafis, che nel parlare di noi parla dei troiani o fingendo di parlare dei troiani per parlare di noi, e forse fa il contrario, ma credo che renda molto bene l'aura dell'Iliade. Dice Cavafis, nella poesia che si dice appunto Troiani, sono gli sforzi nostri gli sforzi dei troiani. Crediamo che la nostra decisione e l'ardire muteranno una sorte di rovina e stiamo fuori, in campo, per lottare. Poi, come giunga l'attimo supremo, ardire e decisione se ne vanno, l'anima nostra si sconvolge e manca e corriamo tutti intorno alle mura. La nostra fine è certa. Ecco, la nostra fine è certa. Questo presentimento di sconfitta, di morte, di rovina, è rappresentato, è espresso, proprio dal più indomito degli eroi troiani, da Ettore, il quale, stranamente, in un momento in cui le sorti della guerra potrebbero volgere a favore dei troiani, data la defezione di Achille, dice alcune parole che non possono non colpire, perché sono le stesse parole che altrove, sono tre versi che si ripetono, altrove le dice Agamennone. Quindi dicono la stessa cosa, ma ovviamente con sentimenti del tutto diversi. Dice Ettore, io lo so bene questo, dentro l'animo e il cuore. Giorno verrà che Ilio Sacra perirà e Priamo è la gente di Priamo. Ettore sa che la guerra è persa. E perché ha questa sensazione? Agamennone sa che la guerra è vinta. E perché ha questa sensazione? Per rispondere a questo interrogativo, credo che si debba dare importanza a qualcosa che nell'Iliere non c'è. A volte quello che non c'è nelle opere non è meno significativo e importante di quello che c'è. E che cosa non c'è nell'Iliere? Cosa cercheremmo in vano? Cercheremmo in vano qualcosa che ci potremmo attendere, col senno di poi di trovare. E cioè un sentimento di odio, di rancore, di risentimento, di protesta, di denuncia da parte dei troiani per questa aggressione della quale sono vittime. Eserciti sterminati rispetto alla piccolezza di Troia. un dichiarato proposito di distruggere Troia. Cioè non stanno venendo solo per ottenere la restituzione di quello che è stato loro tolto, ma vogliono distruggere Troia. Ecco, come mai questo? Per rispondere guardiamo a quello che invece c'è. Il rancore che non è esibito nei confronti dei greci, degli Achei, per quello che stanno facendo, è riservato dai troiani e, oltre che ovviamente da Diachei, a Paride. Paride è dallo stesso Ettore, ripetutamente, apostrofato come causa della guerra. La colpa della guerra è di Paride. E perché la colpa della guerra è di Paride? Dire che la colpa della guerra è di Paride, non degli Achei, significa dire che gli Achei hanno ragione a fare quello che fanno, sono stati costretti a fare quello che hanno fatto. E che stanno facendo? Stanno facendo una guerra che si qualifica come guerra, oggi diremmo, di rappresaglia. Perché dichiaratamente vogliono distruggere Troia, dirà Agamennone con parole significative, che vi risparmio, vogliono incendiare Troia, distrugge, uccidere Ettore, uccidere il maggioruno dei troiani possibili. Perché? Come si configura il fatto che per i troiani questo è giusto? Hanno ragione, non glielo contestano. questa aggressione immotivata con queste finalità distruttive. Perché evidentemente se la colpa è di Paride, significa che quello che Paride ha provocato è stata una reazione che si configura come giusta. Allora, se la ragione è dalla parte degli Achei, come fa Ettore e come fanno i troiani a pensare che possano aver ragione loro con la guerra? Di chi ha ragione? Non hanno ragione i troiani, hanno ragione gli Achei, perché stanno reagendo a che cosa? Ad una violazione della xenia, di quella che chiamiamo la legge dell'ospitalità. Ma che tipo di legge è la legge dell'ospitalità? È una legge, a quale sotto insieme appartiene? Appartiene all'insieme delle leggi volute dalla divinità o da un'autorità superiore? Dovrebbe essere così, ma a differenza che in altre opere e della stessa Odissea, qui Zeus, che è il dio dell'ospitalità, il protettore, non è chiamato mai Xenios, ospitale, protettore dell'ospitalità. E non solo questo, ma se leggiamo, come vi ricorderete, l'Iliade, Zeus parteggia spudoratamente per i troiani, viene accusato di questo da era e di fatto non è interessato, anzi sembra controinteressato alla punizione dei troiani. Cioè, un dio che non si preoccupa di dare esecuzione alla sanzione nei confronti di chi ha violato una sua legge, evidentemente non tiene a questa legge. Non è il volere di Zeus a motivare gli Achei. L'altro sotto insieme. È però la consapevolezza che Pari ha infranto un principio etico di costume inviolabile. Nemmeno questo è vero. Se vediamo cosa gli contesta Ettore, nell'unico episodio in cui sembra far riferimento anche alla persona di Paride, lo chiama Bellimbusto, seduttore, donnaiolo, ma non gli contesta il suo comportamento, diciamo, immorale. Gli contesta il fatto che con quello che ha fatto, avendo insidiato e portato via la donna di uomini potenti, ha provocato il male di Priamo e di Troia. Gli contesta le conseguenze del suo gesto, non il suo gesto in sé. E le conseguenze sono appunto una sanzione punitiva che si configura come guerra di rappresaglia. Cos'altro non c'è nei confronti degli Achei qui? Non c'è nessuna contestazione del fatto che se Paride ha subito un'onta, deve essere Paride, se Menelao ha subito un'onta, deve essere Menelao a lavare l'onda. Che c'entrano gli altri Achei? Nessuno glielo dice. Il diritto a punire la trasgressione della Xenia è affidato a chi ha subito questa trasgressione e a coloro che con lui fanno parte di una stessa collettività. Perché non dice nessuno, ma uccidete Paride, che centriamo noi troiani? Nessuno lo dice perché. Perché la responsabilità nell'Iliade di quello che qualcuno ha fatto non è limitata al colpevole. Si è chiamati a rispondere di quello che ha fatto un qualunque membro della comunità. Quindi abbiamo, primo, la sanzione punitiva che nell'inerzia di Zeus o nella mancanza di autorità superiori viene delegata alla stessa parte che ha subito l'onta e c'è una chiara espressione di responsabilità collettiva e quindi oggettiva. Rispondono in quanto membri della stessa collettività. La sanzione è affidata alla stessa parte che ha subito l'onta. Non c'è ovviamente un tribunale internazionale e così via. Seconda considerazione. Se anche noi considerassimo questa violazione della Xenia come qualcosa che inerisce e si limita alla sfera del privato allora la reazione che comporterebbe la violazione della Xenia sarebbe la reazione individuale e nonno di un intero popolo di chi ha subito l'offesa. E cioè la vendetta. Non c'è altro modo di fare giustizia in questa civiltà che il farsi giustizia. è la parte lesa che ha il diritto e l'obbligo per molti versi di fare giustizia facendosi giustizia. Cosa dice anche qui Menelao quando si configura per la prima volta per lui dopo un incontro casuale si configura la possibilità che lui maturi consumi la sua vendetta attraverso una tregua Achei e Troiani decidono di affidare a una singolar tenzone tra Paride e Menelao le sorti della guerra l'esito della guerra e Menelao si accinge a fare lo dice la sua vendetta e invoca Zeus gli dice mentre Zeus è il dio che nelle composizioni più tarde si serve degli uomini per fare giustizia qui è come se fosse Menelao a invocare Zeus a fare giustizia con lui gli dice uccidilo per mia mano e quando non riesce a ucciderlo se la prende con Zeus è il dio più rovinoso che ci sia perché? perché Zeus viene meno al suo compito di fare giustizia attraverso la vendetta di Menelao ma allora anche la vendetta anche il comportamento considerato nella sfera puramente privata di Paride non è punito da Zeus neanche in quanto comportamento limitato a questi due personaggi e nemmeno della vendetta ci serve Zeus anzi è il privato Menelao che rimprovera Zeus di non consentirgli di fare vendetta considerata anche questa giustizia privata terza considerazione come vedete vado avanti rapsodicamente poi ho l'urgere del tempo che mi incalza l'altro elemento secondo me che rivela non solo l'emergere ma la presenza e non solo la percezione della dimensione del diritto l'abbiamo in uno dei luoghi fondamentali del poema quello che precede la singola artenzone tra Menelao e Paride allorché Achei e Troiani concordano una tregua allo scopo di delegare a questi due singoli personaggi che sono all'origine della guerra l'ospite tradito l'ospitante tradito e l'ospitato traditore l'esito della guerra come fanno a mettersi d'accordo tanto facilmente a sospendere le ostilità però lo dicono di fatto ci dicono che se si fa un patto il patto va rispettato cioè il principio quintessenziale della giuridicità secondo il pensiero filosofico giuridico moderno della Grozio in poi è già noto è già accolto è introiettato pacta sunt servanda tanto è vero ma procediamo però anche questo principio da chi lo hanno avuto intanto è comune a Achei e Troiani ed è un principio sulla cui solidità non si discute non perché l'abbia posto anche questo una divinità non per ragioni etiche ma perché se il patto viene violato il responsabile del patto ha paradossalmente come qualcuno diritto ad essere punito merita la sanzione e non dagli dei ma dagli uomini e non da parti terze ma dalle stesse parti tradite dalla violazione dei patti la riprova di questo il principio pacta sunt servanda viene violato per intervento degli dei con una concordia di intenti più unica che rara Zeus Hera e Atena inducono Pandaro un troiano attraverso l'inganno di Atena che si presenta sotto mentite spoglie a scoccare un dardo contro Menelao a cercare di decidere Pandaro ha violato la tregua e da qui la reazione degli Achei che ritengono imprescindibile è una punizione c'è anche un'allusione a futura memoria come dire ma già in scusate in Menelao quando Menelao aveva invocato l'aiuto di Zeus per punire Paride aveva detto perché così resterà in futuro memoria di quello che succede a chi viola il vincolo di ospitalità la finalità pro futuro in termini di sanzione general preventiva per così dire non stiamo parlando del diritto ma stiamo parlando di tutta una serie di elementi che sono presenti non solo nella civiltà ma nei personaggi che senza ovviamente offrirci un concetto di diritto parlano di diritto dunque la sanzione nei confronti di chi ha violato il patto si configura come una sanzione umana a opera della stessa parte che ha subito la violazione e che altro è questa sia una sanzione giuridica tanto più che ha questa finalità general preventiva per il futuro penultimo elemento poi vi risparmio lì passeremo ad annoiarvi con altre cose penultimo elemento i giochi qui veramente viene in mente la famosa analogia tra regolo di diritto e regolo del gioco che Hobsberg primo ha divulgato qui abbiamo questa singolare situazione lo sponsor dei giochi è Achille che ha offerto i beni i premi per i vincitori che vuole onorare l'amico Patroclo si svolgono questi giochi e la prima delle gare è la corsa dei carri prima che cominci la corsa dei carri Nestore dice al figlio antilogo quello che deve fare cioè gli suggerisce di non puntare non è la forza o la temerarietà conta quella che chiama metis l'abilità tecnica questo termine torna ripetutamente in pochi versi la metis la metis e quando si direbbe avvalendosi della metis antilogo visto che Menelao lo sta superando perché ha cavalli migliori dei suoi cerca di impedirglielo e addirittura fa quello che noi oggi chiameremmo un tagliare la strada per non farsi superare e così Menelao è costretto a frenare i cavalli e a rinunciare a superare antilogo la corsa si conclude vince di Omede che ha i cavalli più veloci antilogo arriva secondo e Menelao lo sfida a altro elemento propriamente giuridico al giuramento decisorio gli intima di giurare di non essere stato scorretto e antilogo in realtà non giura riconosce la sua scorrettezza lascia il premio a Menelao che a sua volta lo lascia a lui perché gli interessava il principio non la cavalla che era stata posta in palio da Achille cosa dice Menelao quando dice che c'è una temis da rispettare la metis l'abilità tecnica deve essere al servizio o comunque non può andare contro la temis è un'assonanza secondo me non casuale metis temis che è molto interessante e significativa però questo antilogo così disposto al fair play alla sportività così mite perché è un personaggio mite poco prima ha risposto in maniera imprevedibilmente dura alla Achille il quale in considerazione del fatto che un suo amico particolarmente caro era arrivato ultimo non per sua colpa aveva deciso di dare il premio spettante al secondo in questo caso il figlio di Nestero è antilogo che poi l'avrebbe lasciato eventualmente come sappiamo a Menelao alterando il risultato della conclusione della gara è antilogo risponde male non è tu non hai questo diritto cioè i giochi hanno bisogno di una particolare tecnica per essere svolti questa tecnica sono le regole che disciplinano il gioco senza le regole che gioco si fa non si può concepire un gioco senza le sue regole e ogni gioco ha regole diverse apparentemente questo principio viene violato quando nell'incontro di lotta tra Odisseo e Agliace Agliace propone visto che non sono diversamente di far vincere chi solleva prima l'altro quando sta per sollevare Odisseo Odisseo lo colpisce con un calcio e tutti restano stupefatti un'astuzia ma Agliace non protesta il pubblico non protesta Achille non protesta vuol dire che questa è accettata come regola del gioco altrimenti sarebbe un sollevamento pesi quindi quello che usa Odisseo è una metis che non viola la temis da un lato invece per tornare ad Achille il più forte chi sponsorizza eccetera non ha il diritto di violare la regola perché senza la regola elemento tecnicamente indispensabile perché un gioco si svolga il gioco non ha senso ultimo elemento su cui vi dell'Iliade non vi entusiasmate su cui vi chiamare la vostra attenzione è il primo ci torniamo indietro primo canto lo scontro tra Achille e Agamendone la schiava Briseide che Agamendone vuole togliere ad Achille in risarcimento di Criseide da lui ceduta è solo la scintilla che accende lo scontro lo scontro ha un'altra ragione e lo sappiamo da Achille Achille non accetta che la formula di giustizia usiamo termini per elmaniani alla quale si ricorre nella distribuzione dei beni l'alloclazione dei beni procuratisi come bottino di guerra con l'attività predatoria bellico predatoria degli Achei avviene secondo il principio a ognuno secondo il rango Agamendone sceglie la parte maggiore e poi Achille è costretto ad avere costantemente una parte minore Achille reclama una distribuzione diversa a ognuno secondo le opere visto che è lui colui che consente la vittoria ogni volta e Agamendone non può accettare questo perché sarebbe un mettere in dubbio le prerogative dell'autorità non può essere Achille a stabilire quale sia il criterio è ingiusto secondo Achille il criterio di giustizia la formula di giustizia di Agamendone però stranamente è strano che non ci si chiede abbastanza questo stranamente Achille accetta di restituire Briseide o meglio di restituire di consegnare Briseide al potere di Agamendone perché lo fa anche qui c'entrano gli dèi è un ordine divino è vero che Atena interviene per frenare Agamendone per frenare Achille che sta per uccidere Agamendone ma gli impedisce solo di ucciderlo non gli dice cedi ad Agamendone né lei né era le re per così dire i numi tutelari della causa degli Achei che sono in particolare Atena e Era si guardano bene dall'imporre ad Achille una acquiescenza nei confronti di Agamendone non è per loro ovviamente loro sono equidistanti o meglio sono equidicine con un calamburro infame di cui mi vergogno subito rispetto ad Achille e ad Agamendone non vogliono lo scontro ma nemmeno vogliono che uno dei due si è umiliato per l'altro quindi non è per un volere divino è perché Achille ha avuto un ripensamento cioè una forma di resipiscenza che lo induce a considerare giusta la pretesa di Agamendone per nulla Achille anche nei canti successivi dirà che è ingiusto quello che vuole Agamendone e addirittura si approprierà di un'ulteriore forma di giustizia quella a ognuno secondo i meriti lui ha diritto a scegliere la vera parte maggiore sia a ognuno secondo le opere sia a ognuno secondo i meriti criteri quasi sovrapponibili ma non del tutto sovrapponibili tant'è che in precedenza l'abilità oratoria di Agamendone era consistita nel far finta di intendere il principio a ognuno secondo le opere che indirettamente veniva postulato da Achille come a ognuno secondo i meriti e tu non hai nessun merito perché se tu sei più valoroso degli altri è perché un Dio dice qualcosa che tutti gli acchi pensano ma qual è il grande merito di Achille nel fare qualcosa che fa non per suo merito ma perché gli dei glielo fanno fare è un modo abbastanza abile per facilitare il discorso ma in realtà Achille si rifaceva al principio ognuno secondo le opere ma lasciamo per dunque non è che cambi idea perché è più giusto quello che dice Agamendone o perché gli dei glielo impongono e perché e qui forse viene fuori il terzo sotto insieme lo dice due volte dice voi me l'avete data e voi me la prendete perciò cede anche quando racconta l'episodio dice lui me l'aveva data e lui me l'ha preso che cosa vuol dire qual è la motivazione se ci pensiamo con le nostre sottigliezze potremmo dire è evidente che qui Achille e con lui gli autori o l'autore di questo passo e opera una distinzione tra possesso e proprietà si ritiene che il Geras la parte del bottino spettante come premio ai singoli debba essere dato ma non definitiva a me è come se la proprietà rimanesse a chi ha dato il Geras salvo poi toglierlo perlomeno Achille accetta questo Achille è come se avesse un possesso che non è una vera proprietà e anche questo però è un motivo che non sarà quello che noi con le nostre categorie giuridiche proprietà possesso possiamo proporre di intendere ma comunque significa che Achille ritiene che pur essendo ingiusta la pretesa di Agamendone è tuttavia una pretesa legittima una differenza tra ciò che lo autorizza a fare il diritto adottato e ciò che dal punto di vista morale è il comportamento di Agamendone che poi si pentirà non a caso di questo comportamento qual è comunque cerco di abbreviare al massimo prima che Maurizio mi catechizzi mi fulmini con uno sguardo e qual è la caratteristica comunque dell'Odissea dell'Iliere abbiamo una grande affermazione di civiltà giuridica che consiste nel principio di responsabilità però questo principio di responsabilità è in tutta l'Iliere un principio di responsabilità collettiva la guerra comincia perché uno dei troiani ha commesso qualcosa di riprovevole e tutti i troiani ne pagano le conseguenze l'inizio del canto è la falcidie che Febbo Apollo fa del campo Acheo dovuto al fatto che Agamendone ha offeso Crise sacerdote di Febbo per Agamendone pagano tutti nessuno dice che è ingiusto quando Pandaro istigato da Atena scocca la freccia non viene punito Pandaro soltanto ma tutti i troiani si risponde di tutto quello che viene fatto da uno dei membri della comunità si è dati di Genos di Polis e così via l'Odissea comincia fin dall'inizio con queste c'è ovviamente la protasi ma dopo di che i dei sono a consesso e Zeus dice ah quante colpe fanno i mortali agli dei da noi essi dicono che vengono i mali ma invece per i loro folli delitti contro il dovuto hanno dolori contro il dovuto è la traduzione di Emma Calzecchionesti e l'originale greco è iuper moron che quasi tutti i traduttori italiani rendono contro il destino non può essere contro il destino perché non si può andare contro il destino andare contro il destino significherebbe che il destino possa essere mutato dagli esseri umani ma nemmeno Zeus può mutare il destino quindi l'interpretazione gli uomini hanno vanno in conto a castighi perché vanno contro il destino non si può reggere perché ripeto uno dei dogmi della cultura greca è l'interrogabilità del destino dire che gli uomini possono andare contro il destino significa o che il loro sforzo è inane non riesce a ottenere risultati e quindi non rileva sul piano della constatazione oppure che riesce e allora questo significa che il destino può essere mutato quindi l'inderogabilità del destino sarebbe una inderogabilità derogabile è stupefacente che si possa arrivare alla traduzione perfetta alla traduzione della calzecchia onesti per altri versi in altri luoghi censurati contro il dovuto cosa afferma Zeus qui afferma che il male che gli uomini subiscono è sempre conseguenza di un loro atto contro qualcosa che si doveva fare e non è stato fatto parlavo del carattere stupefacente della traduzione contro il destino c'è qualcosa di ancora un'altra traduzione più stupefacente di questa ed è una traduzione inglese della seconda metà del seicento dove Juppert morono è reso in un verso come contro la nostra volontà against our will e subito dopo contro la mia volontà my will non c'entra la volontà non è Zeus o gli dèi che vogliono determinate cose ma è il destino è solo la volontà è stupefacente stravagante la traduzione per nulla di chi è la traduzione è di Thomas Hobbes per Hobbes il dovuto è la volontà dell'autorità che ha il potere di porre delle regole ma lasciamo da parte ora il nostro in realtà tutta l'odissea mentre l'Iliere a un susseguirsi di casi di responsabilità collettiva tutta l'odissea invece è in questo è l'evoluzione della società dell'odissea rispetto a quella dell'Iliere da molti punti di vista sottolineata anche dal nostro punto di vista si appalesa laddove già nella protasi si dice per esempio che i compagni di Odisseo sono stati puniti per la loro follia avevano mangiato le vacche del sole Odisseo non è punito perché lui non ha mangiato si risponde mentre nell'Iliere avrebbe dovuto rispondere anche lui come membro della stessa collettiva non risponde e si risponde si paga sempre qualcosa che non si doveva fare Polifemo viene punito perché ha irriso la legge dell'ospitalità ma lo stesso Odisseo viene punito per la iubris con cui rivendica nei confronti di Polifemo quello che ha fatto il dio del mare lo punirà cercherà di punirlo fino in fondo per questo e i proci i pretendenti alla fine del poema saranno puniti per quello che hanno fatto nessuno paga per qualcosa di cui non sia colpevole mentre nell'Iliere responsabilità e colpevolezza si collocano su piani distinti si risponde anche di quello che non si è fatto anzi questo è forse anche dal punto di vista direi religioso interessante perché è un modo per rispondere alla questione affrontata dalla teodicea perché il male perché il male sull'innocente no sarà innocente lui personalmente ma se gli avviene qualcosa di male se viene punito dal fato o dagli dei è perché qualcuno prima di lui ha attirato la sanzione quindi è interessante ma è giuridicamente si colloca però a una fase che precede quella dell'odistia dove c'è questo tema costante della punizione di chi infrange il dovuto quale che sia il dovuto anche se è di provenienza divina il dovuto ma la sanzione poi è sempre o quasi sempre affidata agli uomini salvo la sanzione che gli dei celebrano direttamente quando sono colpiti direttamente il sole o Poseidone e così via può sembrare che questo principio incontri una strana così violazione il principio della personalizzazione della realtà individuale che subentra la responsabilità collettiva proprio dove sembra che celebri proprio la sua piena attuazione la punizione dei pretendenti accederò al massimo perché si sono un po' nei guai dieci minuti accederò al massimo quindi i pretendenti vengono giustiziati da Odisseo ma in precedenza proprio Atena aveva voluto mettere alla prova questi pretendenti vedere quelli di loro che erano più giusti di altri e qualcuno si era rivelato più giusto Anfinomo è uno dei pretendenti ai quali lo stesso Odisseo rivolge parole affettuose gli augura di non essere presente quando avverrà la punizione riconosce il fatto che era un uomo di buoni sentimenti ma anche Anfinomo sarà ucciso e l'altro che era l'unico che dissentiva che condannava il comportamento dei suoi colleghi proci cioè De Ote anche lui viene giustiziato da Odisseo ce la potremmo cavare dicendo che si tratta di una transizione della nocività all'altra ancora non compiuta non è necessario perché Anfinomo non è giustiziato da Odisseo ma è ucciso da Telemaco nella mischia che si accende quindi a rigore sfugge alla giustizia di Odisseo e l'altro De Ote è giustiziato da Odisseo ma con una motivazione che Odisseo sente necessità di dare e cioè lui che era una ruspice poteva prevedere il futuro e non diceva ai proci di non fare quello che facevano perché era contro quello che sarebbe accaduto e cioè si individua una sua responsabilità personale per giustificare la punizione ma il principio della coincidenza colpevolezza responsabilità è confermato perché le ancelle vengono portate davanti a Odisseo e vengono giustiziate impiccate solo quelle che avevano partecipato alle cozzoviglie dei proci si erano uniti a loro e così via il distingo le altre invece vengono salvate e più ancora di tutto troverai interessante la sorte di Feimio l'aedo che aveva rallegrato le serate dei proci Feimio viene risparmiato qualcuno potrebbe dire questo è il corporativismo di Omero che il suo collega vuole risparmiare non è per questo che viene risparmiato viene risparmiato perché sia nel primo canto già si era detto sia a questo punto Telemaco testimonia del fatto che Feimio cantava perché costretto la costrizione esonera dal dover rispondere perché manca l'elemento dell'imputabilità che potrebbe fare scattare la legittimità della sanzione dunque abbiamo ripeto rispetto a quella civiltà giuridica un'altra civiltà giuridica che ha in comune il motivo della vendetta anche Odisseo anche qui non c'è altro modo di fare giustizia che farsi giustizia non c'è l'organo delegato alla giurisdizione all'esecuzione della sanzione no la sanzione viene combinata e eseguita dalla stessa parte l'ESA ma perché questo è giusto non c'è altro modo di fare giustizia di punire chi deve essere punito sì per restare nei dieci minuti cercherò di dire sono ancora dieci sono negati nove forse ma ne sono andato quasi dieci grazie sei un amico vecchio amico ma amico sempre allora due parole soltanto per quanto riguarda ce ne vorrebbero migliaia il libro della Genesi già vi ricordate come lo chiamiamo tutti l'antico testamento che è una traduzione impropria del termine greco che a sua volta si rifà al termine ebraico che designa una diateche o berit in ebraico cioè un'alleanza il patto l'alleanza la Bibbia è la storia di un'alleanza tra un popolo e un dio è tradotta da noi testamento traduttore traditore no Ratzinger si è occupato di questo in veste di teolo che forse la veste a lui più conforme più consentanea e sottolineando questo non ci può essere in realtà un patto simmetrico tra la divinità l'incommensurabilmente altro e l'essere umano significherebbe forse lo stesso piano Dio non ha bisogno del consenso dell'altro tant'è che questo patto se vi ricordate viene sempre imposto da Dio Dio dice ho stabilito un patto con te l'umano non è mai chiamato a dire la sua è un patto che deve subire da questo punto di vista parlare del testamento vuol dire richiamare ad un atto unilaterale quello che se interpretato come atto bilaterale sarebbe contrario a tutto lo spirito della della Bibbia dunque abbiamo quella che potremmo chiamare con linguaggio giuridichese una interpretazione adeguatrice non un tradimento del termine patto ma l'adeguamento al contenuto dell'opera che è costantemente quello della imperscutabilità insindacabilità del potere divino e tuttavia qui la mentalità giuridica che il popolo ebraico al quale e del quale frutto la Bibbia e al quale la Bibbia plasma per il futuro la mentalità ma sulla base della mentalità ricevuta evidentemente è intrinsecamente pieno di giuridicità e quindi nel corso della Bibbia noi assisteremo ripetutamente a rivendicazioni e recriminazioni della parte umana di questo patto imposto da Dio che richiama Dio ai suoi doveri lo mette in mora ma come tu mi hai promesso determinate cose perché Dio nell'imporre il patto ha promesso delle conseguenze positive al contraente necessitato che in realtà non potrebbe sottrarsi al patto e quindi ha creato delle aspettative e quando queste aspettative vengono deluse il popolo ritiene di dover richiamare l'altra parte al rispetto pacta sunt servante è vero che è un patto unilaterale ma tu mi hai promesso questo e non lo stai facendo la logica giuridica del patto si impone sulla logica teologica dal punto di vista teologico tu essere umano non hai nessun diritto di sindacare quello che io faccio non puoi pretendere di piegarmi alla tua logica eppure è quello che pretende la parte umana non solo vi ricordate che uno dei canoni fondamentali della Bibbia è che non si può chiamare col suo nome Dio ebbene l'uomo richiama al suo dovere quel soggetto che non può nemmeno chiamare come si spiega questo se non con una soggezione a una forma mentis che è una forma mentis plasmata da una giuridicità che è già una fase molto avanzata riprova di questo sto per finire però ho solo due episodi da citare eccetera riprova di questo Dio viene ripetutamente chiamato alla logica giuridica o etico giuridica se volete umana il famoso mercanteggiamento tra la divinità e Abramo a proposito della punizione degli abitanti di Sodoma che Dio vuole distruggere e Abramo gli dice un momento ma se ci fossero 50 giusti sarebbe giusto sopprire anche e via via la trattativa prosegue e cioè la responsabilità deve essere individuale io non posso se sono giusto essere incenerito come gli altri abitanti di Sodoma solo perché loro si compie Dio è richiamato ad una logica umana e allo stesso modo la concezione secondo la quale la punibilità nasce dalla colpevolezza ma non c'è colpevolezza senza consapevolezza l'abbiamo quando Abimelech no scusate sì sì proprio Abimelech si fa portare la donna di Abramo a lui presentata da Abramo come sorella il che era vero ma in realtà era anche sua moglie e in sogno Dio gli appare e gli annuncia che sarà per questo chiamato a rispondere perché ha preso la donna di un altro e lui dice ma io non sapevo che fosse sua moglie io sapevo che era sua e Dio lo lascia vivere Dio ha sbagliato nella logica umana perché non poteva imputare Rabbi Melech un comportamento che Rabbi Melech non sapeva fosse un comportamento contro il dovuto un comportamento delittuoso ricordiamoci che nella mitologia greca invece si risponde anche in alcuni filoni pensate a Edipo eccetera di quello che si fa inconsapevolmente senza il sapere ma in cinque minuti spero di concludere ora così l'apologia della giuridicità che plasma questa la Bibbia e cioè una civiltà giuridica molto avanzata molto al di là di quanto noi non possiamo immaginare l'abbiamo proprio nel primo episodio nel più noto episodio della Bibbia Adamo Eva Caino e così via vi ricordate Adamo ha ricevuto un ordine di astensione lo ha ricevuto quando era solo lui ma si estende anche ad Eva perché l'ha ricevuto come unico esponente dell'umanità quindi non è un comando individuale è una norma generale l'umanità non deve mangiare del frutto dell'albero della scienza del bene e del male operata la trasgressione dai due Dio interviene e che cosa fa? Non punisce direttamente l'umanità che ha peccato violando il suo decreto la processa non si può punire senza convincere il responsabile del suo e Dio domanda che cosa dove eri e poi soprattutto chiede a Eva che cosa hai fatto chiede di rispondere sul proprio comportamento ma in realtà chiede di rispondere del proprio comportamento la responsabilità la parola responsabilità è una parola coniata nell'epoca moderna proprio da rispondere bisogna rispondere ma rispondere non solo su quello che si è fatto ma di quello che si è fatto perché erano liberi di fare o non fare quello che hanno fatto e vengono puniti allora qual è il contenuto dell'ordine se ci pensate c'è una particolare una giustizia superiore è del tutto gratuito Dio avrebbe potuto vietare di mangiare il frutto di un altro albero questo l'unico elemento che rende obbligante la prescrizione divina è che viene da Dio come si fa nessuno ha il coraggio di chiedere a Dio scusa ma perché di quest'albero no e degli altri sì non lo possono chiedere perché ciò che Dio vuole è legge andiamo un po' più avanti idem per quanto riguarda la procedura nel caso di Caino anche qui Caino potrebbe essere punito fin dall'inizio non viene punito fin dall'inizio viene processato che cosa hai fatto anche qui rispondi del tuo comportamento attraverso la risposta sul tuo comportamento e Caino viene punito c'è una simpatria perfetta dei processi fase istruttuale diciamo un giusto processo non è un chiedere per sapere quello di Dio che sa tutto è esattamente quello però dietro c'è un popolo giuridico una mentalità giuridicamente evoluta evidentemente e quindi il responsabile non può di fatto accettare infatti sia Adamo ed Eva sia Caino non richimino minimamente accettano la punizione però c'è qualcosa di sostanzialmente diverso in queste due posizioni c'è qualcosa di sostanzialmente diverso chi legge chi trova nella Bibbia stavo dicendo il suo Vangelo il suo testo sacro non trova nulla da ridire su questi due episodi non solo chi ha nella Bibbia ma anche noi leggiamo e vabbè riteniamo che sia un racconto più o meno interessante allora si può essere sanzionati per il proprio comportamento sia se si è violato un ordine proveniente da un'autorità indipendentemente dal carattere intrinsecamente giusto o non giusto del comportamento Adamo ed Eva oppure si può essere sanzionati anche se si è non violato un ordine che non si è ricevuto il divieto dell'omicidio prima ancora che nei dieci comandamenti sarà comunicato da Dio a Noè quando dirà per il futuro rischiederò ragione di quello che ha fatto del fratello dell'altro uomo eccetera quindi non c'è ancora una prescrizione formale ma Dio dà per scontato che Caino non può non sapere che è ingiusto uccidere e infatti Caino dice troppo grande è il mio male l'accetta sia per il comando sia per il contenuto e allora forse chi non trova nulla da ridire su questo secondo me sta riconoscendo implicitamente che l'alternativa tra fondamento di obbligatorietà del diritto nell'autorità che lo pone è fondamento di obbligatorietà del diritto nel contenuto della norma che si deve rispettare forse sono due termini da non mettere come out ma forse come et et noi stiamo dicendo sia sia e questa mi parrebbe una considerazione che può essere utile forse anche per noi ma mi fermo qui prima che tu mi possa sanzionare duramente con l'autorità quasi divina grazie grazie per questa magnifica lezione che ci hai dato e anche per questo self-restraint che consente di fare un po' di discussione su tutto questo perché le fonti sono fonti complesse penso lo stesso atteggiamento di Caino all'inizio sono forse il guardiano di mio fratello cioè all'inizio lui cerca in qualche modo di sfuggire alla regola mentre invece poi riconosce e poi ha una grande portata questo tuo suggerimento finale cioè e se il fondamento dell'obbligatorietà non fosse un'alternativa tra un principio indiscutibile non necessariamente indiscutibile perché cattivo o sopravanzato perché misterioso nel suo fondamento ma anche nel contenuto della regola stessa e le due cose appunto fossero messe in ideale complementarità piuttosto che in opposizione beh insomma non è una provocazione da poco tutta la storia il diritto campa su questo scontro tra l'una e l'altra prospetta come se fosse un'alternativa tutta la storia anche i concorsi tutto va bene la discussione è apertissima volevo dire aggiungere solo una cosa questo giustamente trago lo spunto da questo per dire una cosa verissimo che risponde però Caino non chiede a Dio ma perché hai gradito l'offerta di Abele e non la mia perché tutto nasce l'uccisione di Abele nasce dall'ostilità dall'astio di Caino nel vedere che le sue offerte non erano state gradite al Signore e quelle di Abele sì e Caino non glielo chiede cioè accetta insindacabilmente la volontà di chi decide e quindi poi accetta anche la sanzione ma viene accusato di qualcosa che si dà per scontato dovesse sapere e quindi mi chiedo se tra il formalismo di Caino poteva consistere nel dire senti d'accordo mi vuoi punire ma quando mai hai detto che non si devono uccidere i fratelli molti di noi che hanno fratelli ogni tanto la tentazione lo hanno avuto diciamo la verità non glielo dice però ecco va bene spero non voglio rubare allora vedo innanzitutto Federico Puppo sì è da pensare che nel racconto del racconto della genere se in realtà Dio quello che voleva era la nostra libertà lui poteva non dirci non mangiare di quell'albero ma renderci possibile di mangiare di quell'albero magari non mettendolo nell'Eden o semplicemente impedendosi di operare quella scelta ma noi siamo colpevoli nella misura in cui potevamo scendere di un'albero e la terza mi chiedevo quando si scultura una comprensione del diritto naturale così spagliata rispetto alla animazione che ci sono spesso perché noi siamo più quasi a pensare che il diritto viene da Dio e di conseguenza c'è forse quello che poi dicevano ancora adesso un'immagine spagliata dell'opportunità partirei da queste ultime due cose la scelta libera è una lettura ovviamente discutibilissima da profano volgarissima eccetera ma questa alterità totale della divinità dovrebbe e impedisce all'uomo di giudicare la divinità laddove invece ogni tanto la giudica alla luce dei suoi criteri di una logica umana troppo umana da questo punto di vista se mi consentite anche la lode del Signore è inconcepibile perché lodare qualcuno vuol dire giudicarlo vuol dire mettersi al di sopra di lui ma tutti i salmi sono in gloria del Signore ma la logica non possiamo pretendere cioè che un'opera nata da un'esperienza plurisecolare dall'afflato di migliaia di persone corrisponda a quello che la teologia poi ha individuato tu dici la scelta libera questo vale soprattutto per Caino perché nel caso di Caino Dio gli aveva detto prima l'istinto tuo ti sarà accovacciato accanto ma tu dominalo quindi la Bibbia si preoccupa di stabilire prima che Caino era in grado di resistere alla tentazione per quanto riguarda la violazione dell'ordine del Signore quando Dio dice ad Adamo di non mangiare vi ricordate come dice del frutto dell'albero non devi mangiare perché dice un'ordine ci dà la spiegazione perché se tu ne mangiassi ne moriresti cioè l'unica motivazione è la sanzione non c'è una spiegazione che possa giustificare l'astenzione in termini razionali è un'ordine che si basa sulla sanzione sul potere di chi lo sta dando oc volo si chiubbio vi ricordate eccetera eccetera più o meno è questa la concezione anzi a stretto rigore ora scusate banalizzo al massimo la motivazione ultima l'aveva data proprio il serpent gli ha detto quello che era vero non vogliono che voi ne mangiate perché se ne mangiate diventerete come lei e Dio dirà proprio così ora sono diventati come noi salvo l'albero della vita e così via quindi ora al di là di questo che io sto facendo il biblista selvaggio anzi super selvaggio altro che psicanista selvaggio ma mi interessa però dire che dietro tutto questo vabbè chi crede che sia Dio a fare scrivere attraverso gli uomini questo testo ma io dico che c'è una civiltà estremamente raffinata sul piano proprio della concezione della responsabilità perché appunto il fatto che si metta in luce che Caino poteva dominare il suo istinto giustifica il fatto che poi ne risponda e non era forse qualcosa di tanto facile di fronte ad un'autorità le cui decisioni sono insindacabili la prima cosa scusa però mi è sfuggito in che termine che tu ci hai offerto di una responsabilità soprattutto nell'Iliade può dirci qualcosa solo nel senso della piccolezza della finitudine cioè diciamo quella di Ettore è una speranza disperata Ettore combatte è indometro non è solo domatore di cavalli è sterminatore di uomini Ettore però sa in cuor suo che non ce la può fare nella nostra quotidianità forse molti di noi sanno che non è necessario essere sicuri di vincere per combattere ma essere sicuri di vincere è incompatibile con l'essere umano insomma cioè in questo siamo come i troiani quello che a noi manca però forse è ogni tanto dirci che ilio crollerà e forse questo ci aiuta a vivere però la nostra fine è certa noi abbiamo il nostro orizzonte siamo nati per la morte insomma allora molte nostre battaglie si spiegano solo fingendo di non ricordare che siamo nati per la morte però non vorrei ora io volevo solo sì scusa Maria Paola Mittica Anna Paolo e poi vi chiedo solo di essere brevi molto brevi infatti e non si potrebbe perché effettivamente Eugenio ha toccato argomenti di una complessità con una leggerezza di cui ora tu mi accuserai no 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 soltanto una precisazione perché sarebbero miliardi le cose da dire ti ho ascoltato con grandissimo interesse però questo albero è l'albero della conoscenza quindi sostanzialmente dava la misura del limite umano e anche in quell'upermoron c'è la radice di Moira quindi è uno stare nella misura quindi intanto questa condizione dell'eccesso che adesso stavi andando a toccare che in realtà è l'unico è l'unico vero imperativo che danno gli dei agli uomini la loro condizione di finitezza di limitatezza oltre non si può andare dunque si punisce l'eccesso tutto il resto è giuridicità che organizzano gli uomini quello che la tua relazione ci ha dato è che con le nostre categorie del diritto positivo non possiamo leggere questo tipo di giuridicità evidentemente ma già con l'antropologia giuridica ci avviciniamo di più perché è un diritto consuetudinario quindi effettivamente la categoria vincente tra virgolette la giuridicità con tutte le conseguenze che ci sono tutte le declinazioni possibili ecco e ti volevo proprio chiedere questa di di tornare magari sul punto ecco della dimensione dell'eccesso e di riportare a misura che sicuramente è in tutto quello che hai detto e forse anche sullo sfondo potrei concordare con tutto quello che ha detto Maria Paola però mi dà questa ultima cosa non facile da questo tuo compito sì senti indubbiamente per la civiltà greca concordo pienamente per la civiltà ebraico cristiana tra l'altro dico vale la pena occuparsi di queste cose lo dico per gli assenti per chi si occupa d'altro perché le fonti culturali della nostra civiltà sono queste la civiltà ellenico romana la civiltà giulaico cristiana questi parlo di civiltà occidentale poi arricchita a porti di vario genere però questi siamo noi allora forse è una dialettica costante tra la misura e l'andare oltre la misura cioè in fondo Adamo ed Eva Eva in particolare vorrebbe andare oltre la misura ma andare oltre la misura vuol dire mancare di rispetto alla divinità andare oltre la misura vuol dire farsi dei però ecco quello che mi chiedono come dei però il punto è questo perché non sono ancora immortale c'è ancora l'albero della vita che non hanno mangiato però per il sapere sì allora Dio dice ad Adamo dov'eri e lui dice ho visto che ero nudo però se tu ti sei vergognato e sei nudo vuol dire che hai mangiato l'albero allora banalizzo in termini giuridici per dire che poi non è la nostra giuridicità che possiamo pretendere dagli ebrei e allora però quando hanno mangiato il frutto dell'albero del bene e del male non erano ancora consapevoli del bene e del male perché a Caino l'accusa si può fare perché lui viene da genitori che hanno mangiato quindi lui è pienamente responsabile loro due insomma quando è che è l'antropizzazione quando è che sono diventati uomini gli uomini dopo aver mangiato il frutto della non lo so però concordo pienamente con questo richiamo alla misura che tuttavia è quello che nel nostro tempo noi sentiamo come meno accettabile con quello che segue comunque con la tua diagnosi concordo pienamente insomma grazie questa lezione non una relazione una lezione allora infinitissime cose avrei da chiedere mi limito a questa perché il tempo è pochissimo e c'è ancora Paolo Ritier fondamenti del comportamento dovuto siamo partiti da lì tra i fondamenti cioè nella ricerca di questi fondamenti del comportamento dovuto che vadano al di là della prescrizione degli dei e tutto il discorso fatto uno il principio del rispetto dei patti per esempio da dove viene l'imparzialità del giudizio Menelao dice a proposito della vicenda della Corsa dei Carri darò io il giudizio e sarà giusto perché sarò imparziale poi il giudizio consiste nel giuramento decisorio chiamiamolo così e via dicendo contro il dovuto l'upermoron che ovviamente fa venire in mente a ciascuno il suo che non nasce con un piano nasce in Grecia tra parentesi questo insomma e la lettura della formula che sicuramente in Grecia è così molto probabilmente ma c'è la romanista qui non lo so più di tanto e probabilmente anche in diritto romano quel sum quel dare a ciascuno il dovuto non è necessariamente un beneficio può essere anche una pena ecco che è la lettura di Giuseppe Falcone tutto questo ci potrebbe portare verso i principi generali del diritto che personalmente considero cos'altra rispetto ai principi generali dell'ordinamento cioè proseguendo lungo questa linea di ricerca si potrebbe questa è la domanda in buona sostanza andare nella direzione dei principi strutturali dei principi generali del diritto intendendo per principi generali del diritto quegli elementi costitutivi del fenomeno della giuridicità e come tali insondabili nella loro origine che hai detto misteriosi nella loro origine perché da dove vengono ecco da dove vengono questi principi se l'origine mondo omerico mondo ebraico già ha il principio del rispetto dei patti da dove gli arriva ecco l'insondabile la domanda è se si può andare in quella direzione si può rispondere ma questo vale anche per le domande precedenti con la risposta del vecchio professore in un racconto di Chekhov che dice non lo so dopo proprio l'esperienza portata a dire che ovviamente non posso rispondere così ahimè sì io però dico che da dovunque vengano questi principi nei loro contenuti ciò che aggiunge il diritto è l'inforcement cioè ci mette qualcosa perché l'axenia viene da Zeus viene dal costume greco prima ancora che da Zeus tutto quello che vogliamo però se Zeus non punisce il trasgressore e tu mi insegni in Eschilo è Zeus che fa punire il trasgressore suscita la guerra di Troia per arrivare alla punizione qui invece no la guerra di Troia la suscitano loro gli Achei e quindi la peculiarità del diritto è che quale che sia la ragione per cui un certo comportamento è considerato dovuto secondo me la giuridicità consiste nell'accogliere questo comportamento dovuto munendolo di qualcosa che lo renda più facilmente effettivo nel senso che appunto perché la pacta sunt servanda dovrebbe essere sanzionato dalla divinità invece gli lei la fanno violare sono loro a costringere Pandaro a violare e chi la punisce poi questa violazione gli uomini quindi mi chiedo se non sia una dialettica tra origine e contenuti di un comportamento dovuto e poi trasformazione in diritto di questo però trasformazione in diritto tornando a Caino anche cioè il tabù dell'uccisione dell'omicidio nasce solo quando Caino viene punito cioè anche qui la sanzione che crea a posteriori però non ho una risposta scusa perdonami ma dovrei mettermi a studiare vi prometto che studierò non dare tu la risposta ma telegrafa la domanda la domanda telegrafata è questa io mi limito grazie per le tue preziose parole questo lo devo dire mi chiedevo questo cioè tu hai detto una cosa secondo me essenziale cioè che quando hai detto che il comando dell'omicidio viene dopo come dire viene in un secondo momento quindi c'è un'evidenza antropologica che è appunto l'origine della legge questo è essenziale per il tema delle law and humanities nel senso che tu hai detto che le humanities sono fonte di law questo hai detto e questo secondo me è straordinario per la situazione del diritto e della filosofia del diritto oggi nelle nostre facoltà di giurisprudenza quindi grazie per questo dopodiché la domanda posso chiusare poi ti lascio subito la parola sì però viene attenzione perché viene non dall'alto da una parte terza ma viene da una delle parti che si scontrano quindi che potrebbe anche essere la parte giusta ma questo ci tiene sempre un po' sulle nostre quando parliamo di diritto perché non siamo sicuri che sia condiviso questo è evidentemente però poi per il resto della tua relazione qui interpreto in modo un po' selvaggio nel senso che molto di più sarebbe da dire mi è sembrato di capire questo cioè che tu parlassi più che del nuovo testamento della Torah più che della Bibbia della Torah allora in questo senso anche in relazione alla traduzione del nuovo testamento che chiaramente richiede un'interpretazione figurale mi chiedevo se questo elemento che viene prima questo humanities che viene prima della legge dal punto di vista del nuovo testamento sia declinabile nei termini del diritto naturale oppure invece come fa la teologia post-Vaticano II nei termini come dire di un'antropologia fenomenologico coscienziale accessibile a tutti perché qui chiaramente e allora anche quella traduzione del nuovo testamento si spiega perché è un'interpretazione chiaramente figurale della Torah dal punto di vista del testo giuridico che contiene l'idea del superamento della legge cioè il nuovo testamento no e cogli un aspetto secondo me dal nostro punto di vista centrale perché la Torah rimane la legge però Cristo anche dice vi è stato detto e io vi dico cioè è un modo per dire che il fondamento è un fondamento sovrannaturale della legge la legge potrebbe essere però storicamente oggi io vi dico che le cose quindi c'è uno sforzo di superamento dell'immobilismo no della legge data una volta per tutte che poi è e ora mi rivolgo all'esperte di teatro e nelle nelle eumenidi e le vecchie divinità devono fronteggiare le nuove divinità ma il fatto che la vendetta fosse in passato un principio fondamentale non significa che fosse sbagliato fosse ingiusto solo che viene un momento in cui le nuove divinità cioè che il Vangelo rende mirabilmente e così via lì poi si tratta di vedere credo l'innovazione della figura di Cristo se Cristo è un uomo hai pienamente ragione tu se Cristo non fa altro che attualizzare un insegnamento che ancora una volta viene dall'alto io sarei dalla tua parte però riconosco che si può anche vedere diversamente il giudizio le sale del giudizio sono molto spesso affrescate da esempi che hanno il senso della pedagogia giudiziaria e ricorrente il giudizio di Salomone il giudizio di Salomone non ha più quella persistenza di temi cristiani ma diventa ormai una dimensione laica di questa pedagogia quindi la ritroviamo nel corso dei secoli e nelle sale dove si dice il giudizio cosa chiede Salomone chiede a Dio la capacità di discernere di discernere il bene dal male allora in qualche modo Salomone sta chiedendo qualcosa che prima non era possibile all'uomo che all'uomo non poteva essere dato cioè in qualche modo Dio che dà poi a Salomone la capacità di discernere un cuore intelligente dove il cuore intelligente è un cuore che ascolta allora evidentemente Dio ci ha ripensato c'è tutto il problema ideologico se Dio possa pentirsi ovviamente questo oggi non non può essere tenuto in considerazione quindi c'è in qualche modo poi la capacità dell'uomo di attingere a quell'albero della conoscenza che prima era proibito grazie grazie no no hai perfettamente ragione mi chiedo se ora sto improvvisando quindi già se ci metto due ore a pensare dico sciocchezza poi improvviso però improvviso gratis ecco mi chiedo se quell'episodio non si possa anche leggere nei termini guardate è troppo facile il vostro criterio di giustizia il criterio razionalistico due più due diviso due la giustizia richiede qualche altra cosa l'unica cosa che mi chiedo è se poi il superamento di questo limite della giustizia sia necessariamente nella misericordia nella santità nella pretesa di perdono per tutti cioè lì comincia però il richiamo alla pochezza degli strumenti umani è perfetto perché lì Salomone dava un giudizio perfetto indubbiamente però ecco lì c'è qualche altra cosa ora vi dico io ho sempre trovato insopportabile la faccenda del figliolo prodio io dico che il figliolo che protestava aveva ragione ma perché sono legato a un'ottica probabilmente se ci si retribuzionista ahimè sono molto non ho fratelli devo dire quindi non sono però rientra nello stesso tipo soltanto che siamo qui nel nuovo testamento quindi una visione ulteriore eccetera però è un sacrosanto richiamo anche questo nasce però secondo me da un'esperienza del diritto la consapevolezza dei limiti del diritto se tu ritieni che possa legalisticamente risolvere le questioni uccidi il bambino non lo so se può essere poi ovviamente però è vero questo questo io non sapevo che fosse reiteratamente utilizzata l'immagine scusate ma è una scelta dell'artista o del committente questo mi chiedo sarebbe interessante immagino che trascenda l'una e l'altra è ormai un topos quello del giudizio di Salomone e approfitto del microfono per dire questo che Salomone è stato criticato nell'analisi della sua decisione perché la sua non è una scelta razionale cioè lui fa appello ad una dimensione ecco antropologica sollecita le madri la vera e la falsa madre a mostrarsi attraverso una dimensione psicologico-motiva ma ovviamente quella è un'altra razionalità la razionalità della nostra modernità e quindi non che un'antropologia non abbia una sua razionalità e ce l'ha ma non nel senso della razionalità la Weber per intenderci quella legalistica cioè lui risolve dalla sentenza proprio facendo appello a una razionalità non della legge ma la legge del cuore che è la legge che poi nel cerchio di gesto del caucaso so che ci sarà o c'è stato già un intervento su questo si mostra nella sua evidenza va bene non daremo più le parole alla professoressa Campanale grazie anche perché mi è piaciuta la conclusione perché hai affrontato il tema dei limiti del diritto e quindi possiamo darci tutti appuntamento a Lecce perché andiamo a discutere proprio della questione dei limiti del diritto mi corre l'obbligo di avvisarvi che adesso viene servito il coffee break nella sala qui accanto e poi rapidamente cominciano i lavori dei singoli gruppi ci ritroviamo tutti qua io direi alle 13 per i saluti e poi il buffet lunch grazie 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 a tutti grazie a tutti